Oggi vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da parte da Nellis, praticamente è un diffusore con degli oli essenziali che è bellissimo questa cosa perché la particolarità di questo diffusore che si può collegare ad Amazon Echo, quindi Alexa. Praticamente qui ci sono tutte le istruzioni per poter installare l'app e poter comunque controllare dal dispositivo questo diffusore. Qui ci sono le istruzioni e qui c'è questo fantastico diffusore che adesso vi faccio vedere allora eccolo qua il diffusore bellissimo praticamente io qua l'ho svitato al suo interno comunque troviamo l'alimentatore allora qui va aggiunta l'acqua infatti qui c'è l'indicatore max dove va raggiunta massimo l'acqua e poi va aggiunto uno di questi oli qui abbiamo questo di qualche arte verde invece questo di qua è quello al limone sono degli oli comunque buonissimi di questo diffusore poi avvitandolo qui si va a colorare e grazie appunto tramite l'app di Alexa noi possiamo andare a modificare il colore e non solo qui quindi andiamo a gestire la luce ma da qui mi riusciamo a controllare per quanto e per quante ore può andare avanti questo diffusore quindi un'ora tre ore sei ore oppure direttamente on e che va di continua finché non lo spegniamo grazie all'azienda Nellis per questo fantastico diffusore che adesso non vedo l'ora di collegare con la con amazon vi lascio il link di amazon qui sotto così potete andarlo direttamente ad acquistare perché veramente ne vale la pena e quindi lo andremo a provare direttamente grazie ancora